Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, oggi entriamo nel vivo con due squad builder relativi a FIFA 22 infatti ormai ci avviciniamo, sappiamo già il rating di alcuni giocatori e mi sembra giusto andare a fare delle squadrette con cui iniziare da costo non esagerato e quindi accessibile alla portata di tutti e per fare questo inizierei subito da una serie A e una Premier League due campionati che ci permettono sia di poter sviluppare poi la squadra all'interno del campionato oppure di poter andare a prendere giocatori esteri da altri campionati per fare delle hybrid quindi senza perderci in chiacchiere andrei subito a vedere la prima squadretta che io ho impostato con il 4-4-2 e in questo caso si tratta di una serie A serie A che ha tanto materiale sulle fasce, giocatori veloci, davanti anche qui dei giocatori molto rapidi e impeccabili davanti la porta in mezzo al campo giocatori che abbinano non solo qualità ma anche quantità quindi partirei da qui e in porta vado a pescare in casa Atalanta e vado a prendere Musso nonostante vedete qui ancora l'Udinese, infatti sto utilizzando Footbin 21 visto che il database di FIFA 22 non è completo e non ci sono tutti i giocatori qualora ci imbattiamo in giocatori dall'overall confermato ve lo vado a dire e vi dico cosa cambia quindi Musso, giocatore di 1,91m che sicuramente tra i pali è molto efficace vista la sua altezza, la sua stazza e visto anche che su FIFA 22 i portieri dovrebbero essere abbastanza forti proprio in questo fondamentale terzino destro, ancora in casa Atalanta, vado a pescare Joachim Mele un giocatore che a me piace tanto anche in real life, infatti l'ho puntato anche al fantacalcio molto rapido, abbina anche una buona qualità e ottime doti fisiche e difensive quindi su quella fascia secondo me si fa sentire molto bene per quanto riguarda i difensori centrali vado a pescare qui due giocatori molto interessanti il primo dovrebbe essere Adam Marusic che probabilmente riceverà un cambio di ruolo passando appunto nel ruolo difensore centrale e conservando sicuramente una buona dose della sua velocità che è caratteristica che appunto lo contraddistingue e per concludere il suo compagno di reparto utilizzo i Banez della Roma quindi una coppia tutta capitolina e in particolare questo è anche un ottimo difensore chip secondo me dalle discreti doti anche di rapidità e di mobilità che ci permette di poter avere una coppia molto affidabile e soprattutto fisica e rocciosa come Marusic e i Banez a concludere la difesa nel ruolo di dirsino sinistro io andrei ad utilizzare Tolian del Sassuolo che grazie alle sue prestazioni credo riuscirà a ricevere una carta oro o comunque qualora dovesse essere argento il suo prezzo elevato potrebbe essere tranquillamente sostituito magari con un giocatore alla Mario Rui che quindi non costa tantissimo ma che comunque sulla fascia lo fa perfettamente quindi questo per quanto riguarda il pacchetto difensivo per quanto riguarda invece il centrocampo vi dicevo qualità e quantità e se parlo di qualità e quantità sicuramente non posso non andare a selezionare Nicolino Barella reduce da un grandissimo europeo sappiamo che la sua carta ha ricevuto un enorme boost infatti passa da 80 a 84 questo probabilmente farà sì che il suo prezzo si alzerà un pochino ma a livello statistico bene o male siamo lì un giocatore che è veramente completo sotto tutti i punti di vista e che servirà tantissimo nelle squadrette iniziali per poter al meglio dominare a centrocampo a completare il duo di diciamo mediani centrocampisti un po' più difensivi vado a utilizzare un giocatore come Amrabat che magari real life non è che abbia questo grande impatto ma su FIFA ha sempre ricevuto delle carte discrete come vedete qui ad esempio 78 velocità, 79 dribbrico, 81 fisico, 75 difese e 74 passaggio quindi secondo me una coppia questa tra Barella e Amrabat che può tranquillamente funzionare qualora non dovesse costare uno sproposito si potrebbe anche pensare di utilizzare Zinischi al posto di Amrabat in coppia con Barella però sicuramente credo che alla fine Zinischi reduce da una grandissima stagione riceverà un bel boost e quindi costerà abbastanza un bel boost l'ha ricevuto anche Chessy che da 80 è passata a 84 non ha ricevuto questo grandissimo aumento a livello statistico però anche Chessy sicuramente è un giocatore che si va a completare benissimo con Barella qualora il suo prezzo non dovesse essere troppo elevato su due esterni vado ad utilizzare un altro giocatore del Sassuolo a sinistra ovvero Bogat un giocatore che a me piace tantissimo anche in real life molto rapido che vi permette di poter arrivare anche davanti la porta e cercare di concludere a un ottimo dribbling rapido quindi tutto quello che ci serve per giocare sulla fascia e portare degli attacchi pericolosi per azionare le nostre punte mentre per quanto riguarda il ruolo di esterno destro l'intramontabile Lozano fa il suo sempre e così sarà fino alla fine dei giorni perché è un giocatore rapidissimo, dato di un ottimo dribbling, un buon passaggio un discreto tiro, molto agile e molto rapido quindi anche lui si sposa perfettamente con quella che è l'idea di gioco che andiamo ad applicare con questo 4-4-2 tutto in rapidità per cercare di sfruttare soprattutto le ali in contropiede per andare a concludere questa prima squadra invece nel ruolo di attaccanti il primo giocatore che vado ad utilizzare è sicuramente Muriel un giocatore che negli anni è sempre stato presentissimo in tutte le squadre iniziali su foot insomma non ha bisogno di presentazioni credo che anche lui dopo l'ottima stagione avrà un bel busticino quindi magari più rapido, magari più preciso sotto porta dotato già di un ottimo dribbling, un discreto passaggio sicuramente sarà un'ottima scelta per andare a completare i nostri starter team così come un'altra pedina fondamentale dello scacchiere risulterà Keita Baldè che è rientrato in Italia e sarà un giocatore del Cagliari anche qui parliamo di un giocatore molto rapido dato di un ottimo tiro, un buon passaggio anche lui un dribblatore quindi insieme a Muriel per sfruttare le imbucate degli esterni ma anche i filtranti dei centrocampisti abbiamo bisogno di un giocatore come lui e come Muriel quindi questo per completare questa squadra qui pensando a quelli che possono essere upgrade penso banalmente in difesa a uno Skriniar che abbiamo visto ha ricevuto addirittura 80 in velocità al posto magari di un Ibanez per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro si può andare a utilizzare Teo Hernandez oppure per completare il reparto offensivo si può pensare anche di prendere una carta come quella di Di Natale e Iros che ovviamente in questo momento non è presente nel database ma comunque ci sono tutti gli spunti per poter potenziare al meglio questa Serie A passiamo invece in terra inglese e andiamo a puntare quello che è un discorso relativo invece alla Premier League che come al solito ogni anno è probabilmente uno dei campionati principe che vedremo tantissimo su foot e quindi mi sento di fare una squadretta che sicuramente costerà un pochino in più alla Serie A ma ci dà possibilità maggiori relative appunto ad upgrade futuri inizierei dal portiere e anche qui la scelta ricade su Wenderson un portiere non dall'overo all'altissimo ma comunque dotato di un'ottima altezza che tra i pali insomma fa sentire la sua presenza terzino destro il buggato per eccellenza ovvero Fredericks terzino destro del West Ham dall'overo al basso ma molto rapido quindi in concorrenza rispetto ai vari Walker Cancelo che costeranno uno sproposito ma anche Semedo inizialmente Fredericks fa comunque la sua figura nel ruolo di terzino destro a concludere invece la difesa abbiamo i due difensori centrali il primo è l'intramontabile Bailey anche lui giocatore dotato di una certa prepotenza fisica e sarà utilizzatissimo a inizio gioco anche se comunque va valutata poi l'effettiva validità dei difensori centrali non dei terzini adattati perché bisogna vedere come sarà strutturato il meta ma Bailey sicuramente ha le ottime doti per poter partire nelle nostre squadre a concludere il reparto difensivo centrale andiamo invece a utilizzare Rudiger un altro giocatore che riceve una bella carta su FIFA 22 ci ha abituato a essere tanto utilizzato è molto fisico, ha un'ottima difesa è anche discretamente rapido poi è veramente bello possente in game quindi sradica i palloni dalle gambe degli avversari anche per lui da valutare il discorso velocità ma comunque essendo delle squadre starter non è che ci possiamo già pensare di mettere qui Cancelo e qui magari, non lo so, un Maldini ecco, già esagerando o un Cancelo Walker difensori o un Van Dijk dobbiamo partire comunque con i piedi di piombo mentre nel ruolo di terzino di sinistro un giocatore che a me piace tanto è Tierney che ha ricevuto una carta 80 quindi conferma l'ottima validità di questo giocatore a inizio game e sicuramente ce lo ritroveremo tanto utilizzato questo qui è utilizzato il 4-5-1 ma è un 4-5-1 che appunto poi in game può diventare svariate cose è un 4-4-2, un 4-2-3-1 questo diciamo è il modulo solo per ibridare i vari giocatori Fred è il primo centrocampista che mi ha piacevolmente sorpreso soprattutto dopo averlo utilizzato sulla beta perché è molto rapido ha degli ottimi passaggi ha anche un discreto tiro dalla distanza nonostante le statistiche quindi Fred secondo me fa esattamente al caso nostro e un altro giocatore che fa al caso nostro è NDD NDD solitamente a inizio anno anche lui molto buggato perché è molto fisico è un ottimo difensore passa anche il pallone in maniera discreta comunque in mezzo al campo la sua presenza la fa sentire e non fa rimpiangere anche i giocatori più blasonati quindi questo per quanto riguarda la linea mediana per quanto riguarda gli esterni esterno destro utilizziamo Rafinha un giocatore che anche qui abbina un'ottima rapidità ad un ottimo dribbling un discreto tiro e un ottimo passaggio quindi un giocatore che sulla fascia fa esattamente tutto quello che ci serve per iniziare al meglio e stessa cosa fa dall'altra parte il suo compagno di merende ovvero di Ovo Iota qui si può anche pensare magari di utilizzare un Maxi Man qualora non dovesse costare l'ira di Dio ma sappiamo che invece questo costerà esattamente tanto a inizio gioco mentre Diogo Iota è comunque un giocatore abbastanza affidabile dotato di un ottimo dribbling rispetto a tanti giocatori cheap di overall è dotato anche di un ottimo tiro quindi Diogo Iota è sicuramente molto molto interessante poi nel ruolo di prima punta andiamo a utilizzare Rodrigo qui ovviamente saliamo un pochino di prezzo ma in Premier League sappiamo che questi giocatori qui si pagano ma sebbene ci siamo tenuti bassi fino ad ora li andiamo a spendere magari un po' più di crediti per le nostre due punte di diamante ossia appunto la prima Rodrigo giocatore rapidissimo dato di un'ottima tecnica di tiro e dribbling e a completare andiamo ad utilizzare un altro giocatore che è super buggato ovvero il buon Richarlison anche qui parliamo di un giocatore che sicuramente non costerà pochissimo però sto ipotizzando magari un 20-30k e un stesso prezzo anche 30-40 per un Rodrigo per un totale di squadra che dovrebbe aggirarsi sui 70-80 che comunque come squadra iniziale ci sta esattamente a livelli lievemente più alti rispetto a quelli della Serie A che invece insomma qui secondo me con un 30-40k esagerando 50 insomma qui questa squadra l'avete buildata anche praticamente utilizzando solo la web app quindi questo per quanto riguarda la Serie A e la Premier League ragazzi fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti quali sono le vostre idee di squadra iniziale fatemi sapere soprattutto se volete queste squadre chip hybrid che ho già pianificato ma che vedrete in un video dedicato vi ricordo in descrizione trovate tutti i link insomma della piattaforma Viola per le live giornaliere eccetera eccetera dei partner, pampling per le magliette, instant gaming per FIFA Points plus e abbonamenti a prezzi scontatissimi a me non resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto nel vostro Liberoschi statemi bene ragazzi, ciao 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 ciao